Un referendum per far decidere ai bassanesi se la pavimentazione del ponte degli Alpini debba essere in legno oppure in pietra. La proposta arriva dall'ex vice sindaco Roberto Campagnolo che puntualizza così rispetto alla linea pro pietra dell'attuale amministrazione. Fino a sei mesi fa l'atteggiamento di sovrintendenza era di altro tipo, nel senso che sovrintendenza aveva detto ci sono due elementi che devono essere valutati bene sul progetto, che sono gli elementi visivi più evidenti. Una è l'illuminazione e l'altra è la pavimentazione, chiedendo quindi ai progettisti e all'amministrazione di vedere quale fosse e quale poteva essere la soluzione migliore. Sulla pavimentazione non hanno escluso niente, cioè non hanno detto che deve essere in pietra o in legno. Al Comune hanno infatti fatto sapere che una pavimentazione in pietra non dispiacerebbe affatto alla nuova amministrazione e che questa linea sarebbe sostanzialmente avvallata dalla sovrintendenza. Ma ecco cosa arriva alla Campagnolo. Si sono abbastanza adeguate a quella che è la relazione di Carbonara, del professor Carbonara che sostiene il progetto di restauro che recupera tutto un ragionamento del professor Puppi, uno dei massimi esperti di Palladio che dice che alla fine quello non è il ponte di Palladio ma il ponte dei Bassanesi che si è sempre adeguato alle esigenze e all'uso che i Bassanesi ne hanno fatto. Pensiamo che qualche anno fa era addirittura in asfalto. A questo punto ci si chiede perché il legno possa rappresentare una soluzione più adeguata. Essendo oggi un ponte pedonale non si esclude possa essere in legno ma c'è un elemento in più. Il legno aveva un valore nel progetto, cioè la leggerezza, il fatto che la durabilità come materiale perché si bagna e si asciuga meglio della pietra e il fatto che è più facile da smontare perché quello è un ponte che è stato concepito anche per la manutenzione futura. Quindi ci sono anche dei problemi tecnico-progettuali. A decidere comunque stavolta potrebbero essere i Bassanesi con un referendum o una consultazione fra i cittadini per sapere chi preferisce la pavimentazione in legno e chi invece la vorrebbe in pietra. In ogni caso secondo me devono decidere, dovrebbero decidere i Bassanesi visto che è il ponte dei Bassanesi. Noi avevamo proposto a suo tempo un referendum, volevamo farlo, poi siamo arrivati per le notte vicende molto vicino all'appuntamento elettorale con la fase dei lavori che poteva essere quella dove si decideva della pavimentazione e quindi abbiamo deciso di lasciare ovviamente l'onere della scelta, la facoltà della scelta, la nuova amministrazione, come è giusto che sia. Se anche questa amministrazione facesse un referendum cittadino mettendo a confronto le due soluzioni non sarebbe male.